ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video e come avete capito da titolo oggi vi farò vedere i gel color nuovi di passione unghie che ho acquistato sul sito e come avete visto già nel video del mega haul che ho fatto su passione unghie che ho fatto vedere i colori così nel barattolino però non ve l'ho fatti vedere stesi sulle tip e li ho stesi sulle tip quindi adesso vi faccio vedere i colori stesi dei gel color nuovi che se non ero sono 36 non ho acquistati già l'avete visti sul video precedente ieri per chi non l'ha visto se lo vuole lo può andare a vedere del mega haul di passione unghie di acquisti che ho fatto compreso l'aspiratore promed che ancora ragazze lo devo provare e ne vedo giorni se ce la faccio di provarlo e adesso vi faccio vedere il gel color nuovo che avete visto sul video precedente ieri che ve lo fate vedere nel barattolino vi faccio vedere stesi su tip allora cominciamo subito cominciamo con elisir io vi ridico anche il nome e il codicino così volendo potete fare stop al video per chi che ne so qualcuno piace elisir o un altro gel può stoppare il video fa la foto oppure che ne so è così dopo prendere benissimo sul sito sul sito lo sul sito e lo può acquistare allora il deve lo faccio vedere il barattolino e poi lo faccio vedere steso su tip com'è allora elisir è classic g 70 ed è questo bellissimo colore un attimo perfetto ed è questo qui ok quindi elisir adesso ve lo trovo su tip eccolo qua si presenta così su tip elisir bellissimo mi piace veramente tanto pare proprio la notte come già ho detto anche nel video scorso un cielo stellato l'universo non lo so eccolo qua bellissimo ok questo era elisir intanto che lo faccio vedere uno e d'altro mi metto a posto poi passiamo con il secondo colore lavanda glitter classic g12 allora ed è questo bellissimo viola con queste paiettuzze allora questo qui è lavanda glitter lavanda glitter adesso devo trovare un attimo scusatemi ogni volta il suo telefono lavanda glitter è questo aspettate che lo fermo si presenta così su tip bellissimo eccolo qua ok lavanda glitter ve l'ho fatto vedere poi poi abbiamo mallove fast f 35 ed è questo bellissimo colore bello ma lo stavo a chiudere allora mallove dovrebbe essere questo fai vedere se ci ha chiappato sì mallove si presenta così su tip eccolo qua ok poi chiudiamo mallove l'ho chiuso bene no aspettate ok perfetto poi abbiamo ferrari classic c02 ed è questo bellissimo fantastico rosso ferrari su tip si presenta così eccolo qua ferrari qui si dice ma c'è andata la paillette ecco questo ferrari eccolo qua e porca miseria che sbrevo sempre e rove il cavalletto ho sbattuto ok ferrari poi abbiamo saturno classic g 26 e adesso quindi vi sto facendo vedere il gel color che ho fatto l'acquisto che vi ho fatto vedere solo nel barattorino vi sto facendo vedere questi qui sono nuovi ecco preso e vi sto facendo vedere su tip stesi su tip da questo bellissimo colore saturno ma ho inizio di chiudere allora adesso devo trovare saturno saturno eccolo qua si presenta così lo dico insomma l'ho detto per perché non ha visto il video quello precedente fermate fermate un po' qua saturno eccolo ok comunque questi gel glitterati così o quelli che c'ha le tipo le rittangolini che sono appiccicata tutta aspettate che bisogna che mi metto un guanto perché sennò mi coso detto aspettate un attimo e in caso se rimane un po' trasparentino casomai sotto mettete un colore che sa dice ah quell'altro colore così le paillettuzze o le scaiette viene più esaltato insomma viene più in risalto il colore ecco poi abbiamo andromeda classic g 35 è 35 sì ed è questo che è stupendo è uno dei miei preferiti allora andromeda andromeda eccola qua andromeda in tip si presenta così vedete qua è un po' trasparentino rimane vedete qui poi non c'è bisogno che comunque fate tutti tutta perfetta proprio tutta coprente coprente dopo sotto mettete ecco su questa per esempio il nero oppure se una cliente piace anche così ho lasciato così insomma questa andromeda ok poi abbiamo abbiamo giove classic g 28 gioco qua allora giove eccolo qui rappresenta così bellissimo stupendo questo anche ok giove fatto poi abbiamo oro flash classic videofuoco g61 allora oro flash va così e su tip eccolo qua oro flash si presenta così bellissimo proprio oro oro questo mi sa che a Natale fa veramente furore guardate se è bello questi flash sono veramente completi già con una sola passata però io ne metto sempre due allora oro flash poi abbiamo Marte classic g27 eccolo qua bellissimo anche questo allora Marte eccolo qua Marte si presenta così eccolo qua un attimo ho messo cosa tutto sto cavalletto ok ok Marte poi poi abbiamo Vega classic g 48 eccolo qua eccolo qua allora Vega eccolo qui si presenta così bellissimo eccolo eccomi qua allora poi abbiamo Nettuno mediafuoco classic g25 allora Nettuno Nettuno il dio del mare bello sto blu Nettuno eccolo qua Nettuno un attimo ci faccio chi appallo questo è Nettuno una così poi abbiamo idra classic g42 bellissimo queste scagliette allora idra 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 adesso lo trovo subito dove sei idra ecco te qua eccolo stupendo idra mi piace da impazzire ok questo è idra poi abbiamo Victoria Fast F64 questo pure molto 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 bello eccolo c'è i micro brillantini all'interno vedete ok allora Victoria eccolo qui si presenta così non so se riuscite a percepire un po' di micro brillantini più o meno insomma questa Victoria poi abbiamo Sexy Sexy Plum questo pure molto bello Fast F15 eccolo qua questo con i micro brillantini Sexy Plum invece si presenta così su tip eccolo qua non so se vedete i micro brillantini un po' non lo so eccolo poi poi abbiamo cielo flash classic G50 bellissimo bellissimo cielo flash su tip si presenta così allora stupenderrimo eccolo c'è lo flash poi ok poi abbiamo Antares classic G47 questo pure formidabile proprio bellissimo allora Antares eccolo qua Antares si presenta così eccolo Antares è fatto poi abbiamo Fenice classic G40 vedete questo colore bellissimo ma è molto appiccigliato eccolo pare di parlecchino Fenice invece è questa che mi sta staccata ecco Fenice ed è così poi abbiamo Mira classic G38 questo è veramente stupendo allora pensavo che era più difficile a stendere invece sinceramente mi sono trovata benissima a stendermi allora Mira 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 eccolo qua Mira si presenta così guardate quanto è bello eccolo qua poi poi abbiamo urano classic G24 questo pure bellissimo subiona allora urano invece urano è questo eccolo qui poi abbiamo cigno classic G41 eccolo qua allora cigno adesso li trovo anche cigno eccolo qui mi si è strappato tutto la scritta bellissimo bellissimo cigno mi piace un bel po' ok poi dopo cigno abbiamo fucsia glitter classic G13 eccolo qua stupenderrimo anche questo allora fucsia glitter eccolo qui ok eccolo viene stato attaccato eccolo qua poi abbiamo turchese flash classic G52 eccolo bellissimo questi proprio stili turchese flash eccolo qua ok ok poi abbiamo nero flash classic G558 questo qui dopo averlo steso sinceramente sì non è brutto mi piace aspettavo meglio non è tutto sto brillante non spicca più di tanto sinceramente e poi pare più in argento non ce ne sono andata matta quando ho anche lo steso allora cioè non è brutto fa il suo effetto per carità però ditemi voi però a me vedete non è che matizza più di tanto sinceramente ma comunque ok questo poi poi abbiamo Sirio classic G39 che è questo qua Sirio sul verde Sirio Sirio adesso lo trovo eccolo qua aiuto questo qui eccolo qua ok poi eccomi qua allora vi ho fatto vedere Sirio adesso Purple Rain Fast F78 da questo bellissimo viola Purple Rain è questo qui allora che mi ha sciogito pure l'etichetta qua aspettate vedo se si riattacca eccolo qua Purple Rain eccolo eccolo poi 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 abbiamo Jackpot che è un oro Fast F73 bellissimo bellissimo allora Jackpot adesso lo trovo subito dovrebbe essere questo no? quest'altro lo si è dato eccolo presenta così il suo tip steso bellissimo questo è veramente stupendo anche poi abbiamo Titanium Fast F72 questo è molto bello questo grigio metallizzato pure bello 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 eccolo qua allora Titanium e taglie il cavalletto oggi ce l'ho fatto il cavalletto ecco a voi Titanium fermate ecco qui eccolo poi abbiamo aiuto Lira Classic G45 questo pure è un altro colore stupendo uno di miei preferiti Lira allora Lira si presenta così che adesso lo la trovo un attimino eccolo lo cacchio sta ecco la V qui l'ho trovata un attimo allora ecco Lira bellissimo ragazzi questo è un fan pazzì bellissimo tanto però ecco se ci mettete un colore sotto vedete già con la mano così a coprenti vedete quindi se ci metto un colore sotto che sa dice questo tipo di colore qui è una bomba perché vedete già lo metto così si vede un po' trasparentino bellissimo aiuto ok poi abbiamo Oceanoflash classic G59 è questo bellissimo allora Oceanoflash eccolo qua è stupendo questo ragazzi questo pure mi fa impazzire ok poi non ne mancano tanti poi poi azzurro flash classic G51 questo anche molto bello spettacolare proprio allora azzurro flash invece è pure qua ho questo qui eccolo qua eccolo qua poi aiuto poi abbiamo oro rosa flash classic G49 già si è sbordati tutti che si a parte mi erano venuti già tutti ammaccati porigello allora oro rosa flash bellissimo un rosa antico poi poi abbiamo gli ultimi 5 Pegaso che è classic G36 bellissimo Pegaso ragazzi che spettacolo proprio allora Pegaso 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 eccolo qua bellissimo poi questo è Pegaso poi abbiamo Cassiopea classic G46 madonna è bellissimo questo mi piace tanto anche questo verde allora Cassiopea è uno spettacolo proprio eccolo qua mi piace veramente tanto non è quei verdi bruttini stupendo poi gli ultimi 3 abbiamo Glitter Chrome and Gold chic a 115 nell'altro verdino con riflessio oro se pare ed è questo credo si carino anche questo ok poi gli ultimi due abbiamo verde flash classic G53 bellissimo questo allora verde flash vorrebbe essere questo qui che qua mi si è perso il fogliettino vabbè comunque questo eccolo qua poi poi l'ultimo che è un flash abbiamo lilla flash che è il classic G55 ecco qua bello anche questo allora lilla flash questo qui credo no questo è forse flash lo stadio da flash eccolo eccolo qua eccolo qui e questi sono stati 36 color credo che sono 36 color literate che ho fatto l'acquisto l'altra volta su Passione Unghie e l'avete visto ieri il video per chi non l'ha visto mi raccomando l'andasse a a vedere il video mi raccomando del mega nello spacchettamento di Passione Unghie del mese d'aprile cioè l'ho fatto il mese d'aprile però il mese d'aprile mi pare che non ho preso niente comunque ok ho preso tutte le cose vecchie e niente sotto al video se volete commentatemi fatemi sapere quale è stato tra questi il vostro insomma colore preferito tra questi qua che ho preso e e poi cos'altro dirvi ah mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto se vi è stato utile anche questo video scusate ma anche questo video qui per fare i vostri su Passione Unghie soprattutto sui colori e niente io vi mando un enorme bacio e ci diamo presto al prossimo video ciao ciao